Inizia oggi il Baroque Festival, festival rock per valorizzare i monumenti barocchi della città di Piazza Armerina, città dei Mosaici e del Palio dei Normanni, oggi città del barocco, poiché è solo qui che si può scoprire il primo barocco di Sicilia, non essendo mai stata colpita dal terremoto del 1693. Quindi abbiamo questo primo stile barocco che noi abbiamo intenzione di valorizzare, portando alle nostre piazze questi concerti importanti e queste fusioni di stili, dal Requiem di Mozart, oggi interpretato in chiave rock dal coloririco siciliano con la presenza del noto artista Morgan, dal concerto delle vibrazioni e poi le nuove rock star con i trapper e i rapper per attirare un pubblico più giovane. Tutto questo per valorizzare questa città che da anni si impegna per far vivere il centro storico di arte e di cultura.